Calispera a tutti quanti da qui, da Calimera Io mi chiamo Antonio, non posso venire a questa importante iniziativa lo sbacco da Barcellona verso Genoa però vi mando la mia adesione più profonda e spirituale Ho preso spunto da questa festa che si compie oggi qui a Calimera la festa dei Rampioni con la speranza che tutte le nostre coscienze vengano illuminate illuminate non solo nei giorni dello sbarco ma nei 365 giorni in un anno che il nostro operato ogni giorno nella nostra terra come questa, il Salento possa portare frutti proficui perché una terra di cultura come questa ha bisogno di essere incentivata ed incoraggiata oggi purtroppo siamo ancora costretti ad emigrare per questioni di opportunità non ci piace allontanarci dalla nostra terra soprattutto quando abbiamo qualcosa da raccontare quindi lottiamo, lottiamo sempre e comunque è importante ricordarsi dei nostri diritti